a tutti Palmieri Clemente presente Giacomino presente giustificato Leonardo Gianardi Zanello presente Brignolo Cipriano presente Gemello presente Baldi al momento assente Bosio Oliva presente Albrele presente Martino Gaeta Mazza assente giustificato Gio R la giunta è per esempio Presidente come al solito io chiedo il permesso di fare proiettare delle slide d'accordo allora prima di cominciare eh volevo fare presente che chi eh chi fa gli interventi può togliersi la mascherina per un problema di audio che potremmo avere allora passiamo al primo punto delle interrogazioni sono pervenute quattro interrogazioni dal gruppo consigliare obiettivo alpignano la prima interrogazione avente per oggetto reti di protezione Ponte Nuovo chi illustra? Prego consigliere Oliva allora considerato che il Ponte Nuovo è diventato tristemente famoso per l'elevatissimo numero di suicidi avvenuti nel corso degli anni considerato che in data ventitré settembre duemilaventuno è avvenuto un ulteriore tentativo di suicidio considerato che nel mese di luglio duemila e diciotto l'allora sindaco sottoscritto Andrea Oliva a seguito del drammatico suicidio da parte di un giovane di diciassette anni è stato ricevuto in commissione tecnica di città metropolitana dal consigliere delegato ai lavori pubblici Antonino Iaria e dal consigliere metropolitano Antonio Castello esponendo il grave problema dei suicidi avvenuti sul Ponte Nuovo richiedendo un intervento urgente per la messa in sicurezza attraverso l'installazione di rete di protezione considerato che in data ventisei luglio duemila e diciotto è avvenuto il primo sopralluogo con il sindaco di Alpignano eh il direttore alla lavori pubblici di città metropolitana ingegner tizzani il sindaco di pianezza e consigliere metropolitano Antonio Castello l'assessore Maurizio Morra di Cerle il funzionario lavori pubblici del comune di Alpignano l'architetto Franco Melano per la valutazione dell'installazione delle reti di protezione richieste e considerato lo stato di ammaloramento della struttura anche della valutazione di un intervento di ristrutturazione complessiva considerato che in data tredici febbraio duemila e diciannove il consigliere metropolitano Antonio Castello ha presentato in consiglio metropolitano a nome del gruppo lista civica per il territorio una mozione avente per oggetto destinazione fondi ministeriali per i lavori sul Ponte Nuovo di Alpignano e che durante il dibattito in aula i consiglieri Castello Ruzzola e il consigliere delegato Iaria hanno evidenziato in modo chiaro e determinato che il Ponte di Alpignano necessita di due ordini di intervento il primo per fermare il fenomeno dei continui suicidi attraverso l'installazione di rete di protezione e il secondo di carattere strutturale considerato che la suddetta mozione è stata approvata e la città metropolitana di conseguenza ha preso l'impegno descritto nel dispositivo e discusso in aula considerato che in data venti febbraio duemila ventuno il comune di Alpignano ha emesso un comunicato pubblicato sul sito web istituzionale del comune indicando le fasi dei lavori ed evidenziando che la terza ed ultima fase riguarderà l'installazione di reti anticaduta i consiglieri comunali del gruppo obiettivo Alpignano Andrea Olive e Sandro Alprile interrogano il sindaco e l'assessore delegato uno per conoscere se l'evidenza della terza fase relativa all'installazione delle reti anticaduta è supportata da progetti realizzati da città metropolitana e inviati al comune di Alpignano due per conoscere se il comune di Alpignano ha chiesto a città metropolitana e ricevuto i documenti relativi alla progettazione affidamento e programmazione di tutte e tre le fasi dell'opera di manutenzione straordinaria del ponte nuovo ok grazie consigliere Oliva risponde al primo punto l'assessore Barbiani al secondo punto il sindaco Palmieri ricordo che per le risposte c'è dieci minuti a disposizione per dare risposta soddisfazione o non soddisfazione ci sono cinque minuti prego assessore Barbiani buonasera a tutti innanzitutto eh è un piacere anche potervi vedere di persona dopo tanto tempo eh sì al primo punto risposto io eh o meglio abbiamo inviato direttamente una mail a città metropolitana perché essendo il ponte opera di città metropolitana aspettavamo una risposta direttamente da loro abbiamo indirizzata al l'ingegner Tizzani Matteo che era anche citato nei sopralluoghi e vi leggo ciò che ci ha risposto stante il valore storico del ponte di alpignano millenovecentotrentatré gli uffici tecnici della città metropolitana hanno avviato studi ed indagini di mercato interpellando aziende specialistiche al fine di collocare dei dispositivi di protezione anticadute eventualmente anche di tipologia trasparente finalizzata a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico il secondo lotto funzionale per un importo di un milione e cinquecentomila euro è oggetto di richiesta di finanziamento in corso al ministero in tale lotto verranno completati gli interventi strutturali ed eseguiti gli interventi richiesti di miglioria illuminazione predisposizione per tutti i sottoservizi eccetera e di sistemi anticaduta di cui sopra tali ultimi apprestamenti dovranno essere riconosciuti dal ministero stesso tutti i documenti progettuali approvati sono disponibili e pubblicati all'albo pretorio dell'ente grazie assessore Barbiane la parola al sindaco buonasera buonasera a tutte e a tutti rinnovo il benvenuto fatto dall'assessore in precedenza soprattutto perché si ritorna a vedersi di persona e con il pubblico la città ancora con i contingentamenti dovuti dal dal covid per quanto riguarda il punto due per conoscere se il comune di Alpignano ha chiesto a città metropolitana e ricevuto i documenti relativi alla progettazione affidamento e programmazione di tutte e tre le fasi delle opere di manutenzione straordinaria del ponte nuovo nelle tre fasi si contempla un primo lotto uno quello della messa in sicurezza iniziale che era relativa alle pilastrature alle cerchiature che sono avvenute nell'anno duemila e venti durante il periodo di chiusura totale del ponte e su questo è sì sull'otto due che è la fase che deve partire in questo momento quindi legata a quelle che sono le opere di consolidamento della soletta intradosso ed estradosso sì e come ricordava l'assessore prima sono disponibili sul sito e sull'albo petrolio dell'ente in questo caso di città metropolitana e i due decreti di riferimento sono il 234 del 2020 del 22 12 2020 e poi c'è la determinazione numero mille 954 2021 del 27 4 2021 anche in questo caso la risposta è affermativa come vi ha accennato in precedenza l'assessore per il lotto 3 risulta essere in fase di definizione soprattutto per quanto riguarda la parte dell'installazione della valutazione della tipologia di reti anticadute pertanto non abbiamo ancora una documentazione progettuale a supporto non ce l'abbiamo noi non l'ha ancora evidenziata città metropolitana il tutto tengo a precisare che già la parte anche legata all'installazione della rete e a quello che sarebbe stato il progetto a onor di cronaca era stato già eh esposto in una delle conferenze che abbiamo avuto in maniera allargata con tutte le forze politiche sedute in consiglio ma anche allargata all'esterno del del consiglio comunale e altre rappresentanze come eh il comitato Ponte Nuovo piuttosto che non eh le forze dei vigili del fuoco la croce verde e quindi tutto quello che ha a che fare con eh la parte di soccorsi di emergenza nella eh conferenza del diciannove di febbraio duemila ventuno quando concertammo tutti quanti insieme quello che era la disposizione poi per eh il periodo di chiusura del ponte proprio durante i lavori del secondo lotto il verbale è a disposizione ed era stato poi trasmesso il primo di marzo del duemila e ventuno a tutti i presenti e lì trovate anche una sintesi di quanto l'ingegner Tizzani aveva già esposto sia dal punto di vista progettuale ehm aveva trasmesso in in formato web in quel momento la parte delle tavole di di progetto e eh le considerazioni che erano state fatte poi ovviamente per quella che era la chiusura e la viabilità che si sarebbe stata che sarebbe stata e che sarà poi eh attiva nel momento di chiusura del ponte parziale per quanto riguarda i lavori grazie grazie sindaco la parola al consigliere Oliva parto dal fondo eh generalmente il presidente chiede se il consigliere soddisfatto eh devo dire che non posso essere soddisfatto perché a entrambe le eh le domande eh la la risposta eh e eh no cioè nel senso per conoscere se l'evidenza della terza fase supportata da progetti realizzati da città metropolitana e inviati al comune di Alpignano la risposta data è no per conoscere se il comune di Alpignano ha chiesto a città metropolitana e ricevuto i documenti relative alla progettazione affidamento e programmazione di tutte le tre le fasi delle opere la risposta è no allora eh da politico e da politici come siamo tutti noi la domanda è che ci stiamo a fare qui perché a me sinceramente della risposta verbale eh ho di una mail dell'ingegner Tizzani non me ne faccio assolutamente nulla perché perché l'ingegner Tizzani risponde dice probabilmente in questi giorni a seguito della nostra interrogazione quindi questo dimostra che la parte politica pur sapendo che un giorno un'attività che città metropolitana sta facendo su una struttura attualmente di proprietà di città metropolitana sarà ceduta al comune di Alpignano e che il comune di Alpignano non si interessa almeno la parte politica di che cosa questi signori andranno a fare su una struttura che poi dovrà prendere in capo ma va bene eh la la domanda che mi faccio è cosa stiamo a fare noi politici perché il sottoscritto non è andato da l'ingegner Tizzani il sottoscritto è andato dalla politica ha chiesto alla politica che dispone la politica ha chiesto e ha ottenuto perché la politica si è espressa in modo chiaro e determinato su quelle che dovevano essere l'attività sul ponte nuovo cioè chi dispone delle risorse finanziarie che dice lì mettiamo dei soldi è la politica non è il tecnico e quindi in città metropolitana i politici hanno e i politici di maggioranza addirittura eh hanno detto sì il ponte di Alpignano deve essere messo in sicurezza sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista delle reti di protezione per i suicidi e c'è una mozione di eh impegno da parte del consiglio metropolitano e allora la domanda è la prossima volta l'interrogazione la faccio all'architetto Melano perché se voglio una risposta tecnica chiedo la risposta all'architetto Melano concludo dicendo che non sono assolutamente soddisfatto né della risposta e non sono assolutamente soddisfatto dell'attività che la politica di maggioranza cioè chi governa dovrebbe fare nei confronti della politica io se fossi stato seduto al posto vostro sarei andato non da Tizani sarei andato dall'assessore delegato come è che si chiama adesso che non lo ricordo è anche un amico che ascolta vai a chiedere all'architetto Tizani i progetti e me li fai vedere tu politico me li fai vedere tu e mi fai spiegare perché io sono un politico e tu pure che cosa venite a fare a casa nostra sulla struttura che fra poco diventerà nostra eh vi do un consiglio non vi fidate dei tecnici perché quando fate delle affermazioni politiche sulla base di un eh un'attività che un tecnico ha detto che probabilmente si farà anzi che si farà poi fate brutta figura perché nel comunicato del sindaco c'è scritto la terza fase si farà la si metteranno le reti di protezione la risposta della dell'ingegner Tizani non dell'architetto è siamo in una fase di valutazione conoscitiva delle della tipologia di reti quindi siamo ancora in fase di stiamo valutando non di progettazione e quindi non posso essere soddisfatto grazie consigliere oliva passiamo alla seconda interrogazione avente per oggetto oneri finanziari connessi alla posi in opera del ponte belli interviene prego consigliere abrile considerato che nel duemilaventi a seguito della chiusura del ponte nuovo il commissario prefettizio ha richiesto al comando forze operative nord dell'esercito la realizzazione di un ponte provvisorio in soccorso alla viabilità cittadina considerato che l'attuale amministrazione non ha perseguito l'attività richiesta e avviata dal commissario prefettizio i consiglieri comunali del gruppo obiettivo alpiniano andrea oliva sandro albrile interrogano il sindaco e l'assessore delegato per conoscere gli oneri finanziari connessi alla posa in opera di un ponte belli in zona sassetto proposti dai competenti comandi militari a seguito della richiesta del commissario prefettizio e due per conoscere la motivazione per la quale l'amministrazione comunale ha deciso di non perseguire tale attività grazie allora per queste interrogazioni eh risponde al primo punto l'assessore Barbiani e al secondo punto il sindaco Palmieri prego assessore Barbiani allora sì per il primo punto il ponte Beili abbiamo si era ricevuto direttamente il preventivo dal polo di mantenimento pesante nord che intravedeva un un importo il valore stimato pari a quattrocentodiciannove mila duecentosei per il ponte mentre quarantaquattromila e trecento il valore dei materiali necessari al gittamento il canone annuale anticipato soggetto ad aggiornamento era di ottomila trecentottantaquattro in più pendevano sul comune una fideluzione una garanzia eh pari a quattromila centonomantadue per il pagamento dei canoni e una fideluzione a garanzia della manutenzione del ponte tramite eh al termine della convenzione del valore di centonmila quattrocento e venti e anche qui eh è stato inviato direttamente dal commissario prefettizio alla città metropolitana che ha risposto eh dicendo che come meglio descritto nella relazione pervenuta dal trentaduesimo reggimento genio guastatori al fine di poter mettere in esercizio Pontebelli ipotizzato si rendono necessarie le seguenti attività propedeutiche la presa disposizione di un'area la realizzazione di collegamenti basamenti in appoggio in cemento armato le rampe d'accesso le opere di raccordo insomma tutte delle opere accessorie e via dicendo all'interno di queste e di questi eh opere c'erano anche tutto un discorso di pagamento del eh del vitto dell'alloggio delle persone che comunque avrebbero inserito avrebbero fatto questo questo ponte poi tutte altre cose. Città metropolitana risponde dicendo signori sì noi abbiamo fatto fare un nostro preventivo dai nostri tecnici e non è proprio quello che nel senso che con le opere accessorie noi arriviamo a un importo di un milione trecento ventun mila duecento trentanove. C'è anche una seconda ipotesi il ponte un po' più piccolino un po' più stretto e vi dicendo che era di un milione centosettantaduimila trecentosessanta. Eh il ponte aveva delle delle caratteristiche il ponte Beli doveva avere una distanza tra i veicoli cinquanta metri una velocità di trenta chilometri un via una viabilità senso unico e via dicendo. Ecco questo è ciò che ha risposto direttamente la città metropolitana. Eh quindi lasciare il punto due al sindaco. Grazie. Grazie assessore. La parola al sindaco. Grazie. Per quanto riguarda il punto due ovviamente c'è un discorso di scelta che non è stata perseguita eh minimamente da città metropolitana nel senso che proprio anche in quella in quella call del diciannove di febbraio dove vorrei correggere solo un imprecisione del consigliere Oliva cioè in quell'occasione è stato presentato il progetto a tutte le forze politiche non solo al comune quindi la parte politica c'era e ha preso ben visione di quello che è il progetto. In quell'occasione città metropolitana interessata ovviamente da quello che l'esborso economico disse non perseguiamo quella situazione. Tanto meno il comune pensando di facersi di farsi di potersi far carico di un milione trecentomila euro per quella che è una struttura temporanea avrebbe potuto soddisfare quelle che erano le richieste in quel in quel momento. Stante al fatto che in quel momento preciso era il commissario prefettizio. Si è deciso pertanto di optare per situazioni ben definite e non un qualcosa di temporaneo. Ovviamente si è perseguito politicamente quello che è l'indirizzo che ha ricordato prima l'ex sindaco ovvero di andare politicamente i contatti con il consigliere delegato Fabio Bianco ci sono stati sono stati notevoli sono stati ripetuti e dopodiché c'è stata anche in sinergia quello che è stato il rapporto tra gli enti tecnici del comune e di città metropolitana con i solleciti come abbiamo detto più volte quindicinali costanti per mettere anche quella che è una pressione dal punto di vista degli uffici tecnici ma anche una pressione dal punto di vista politico per sbloccare nel più breve tempo possibile la situazione pertanto non mi trovo d'accordo con la forma con le affermazioni che ha detto prima il consigliere non mi trovo d'accordo soprattutto perché vengono mistificati i fatti dopodiché l'interrogazione era prettamente di un taglio tecnico avesse voluto le azioni politiche bastava chiedere il tipo di azioni politiche messe in atto detto ciò concludo si è deciso di optare invece per situazioni definitive come scelta politica tanto è vero che ricordo che nei primi mesi di questa amministrazione subito a partire da ottobre fino a gennaio neoltrato si sono svolti quei tavoli di città metropolitana dove è parte politica presente quei tavoli per andare a definire il piano strategico metropolitano che si è concluso poi nel mese di maggio con quello che è stata la definizione in fase preliminare del piano del nuovo piano territoriale di città metropolitana che sostituisce il ptc due precedentemente in vigore ed entrambe le due opere strutturali viarie più importanti per la nostra città permangono all'interno di quella che è la programmazione degli studi di fattibilità e della programmazione preventiva ovvero sia quello che il ponte inteso sul confine con alpignano pianezza non nella zona centrale della zona sassetto altro motivo per cui constatando quella che è la situazione di approdo di un ponte in una situazione in una zona prettamente residenziale è stata anche una di quelle variabili che ha fatto protendere al non proseguo di quell'opera all'interno di quella zona residenziale abbiamo deciso di perseguire pertanto l'idea invece progettuale programmatica su un periodo sicuramente più lungo perché vuol dire cercare di intercettare quei fondi quei finanziamenti neanche a livello comunale benché presentate all'interno delle schede del PNRR presentate in regione Piemonte ma a lungo gittata come dicevo prima 2021-2027 all'interno di quelli che sono anche i fondi strutturali della regione Piemonte da cui poi città metropolitana può andare ad attingere presentando le progettualità sulla viabilità uno è il ponte per l'appunto verso quello che è il confine con pianezza l'altra è l'estensione naturale da tanto tempo si ragiona su questo eh di quella che è la variante la statale ventiquattro e quindi per arrivare poi a quello che è la produs sulla zona periferica di Rivoli per intenderci in quella che è la zona oggi della della COPEX a Oshan questa è sicuramente l'azione politica che è stata messa in campo nei primi due mesi di quella che è stata eh l'inizio di questa avventura amministrativa quindi spero di aver assolto in questo caso sia una risposta tecnica che è una risposta politica poi magari non è soddisfatto comunque il consigliere Oliva o il consigliere Albrille visto che l'ha esposta lui come interrogazione ma questo è il dato di fatto grazie grazie sindaco la parola al consigliere eh Albrille dunque ehm non sono soddisfatto molto della risposta parto dal secondo punto del sindaco Palmieri eh in parte ha risposto un po' in polemica all'intervento del consigliere Oliva prima e si parlava sempre di ponti ma era un altro argomento mentre avrebbe dovuto attenersi un po' più alla risposta del del Ponte Belli sì comunque non eh a parte questo ok eh è stata presa un po' alla larga la risposta mi sembra in sostanza mi sembra di aver capito che il ponte per voi costava troppo e di conseguenza né città metropolitana né voi volevate eh realizzarlo questo mi sembra di capire che sia la vera scelta politica della quale rendete poi conto i cittadini eh ne avete già reso conto forse a maggio fino a maggio quando c'è stata la chiusura del ponte eh e probabilmente ne renderete conto poi anche prossimamente quando si inizieranno i lavori perché questo circuito d'anello va già meglio che la chiusura totale del ponte ma avrà qualche qualche inghippo quindi mi pare di capire che la scelta politica sia costa troppo non vale la pena farlo ok in merito invece alla risposta dell'assessore Barbiani eh trovo che abbia fatto una leggera confusione perché le cifre di quattrocentodicennovemila erotti e quarantaquattromila sono relative all'assicurazione che la veniva richiesta a coprire l'eventuale danno l'eventuale danneggiamento del ponte stesso il costo mi sembra che fosse ottomila trecentottantaquattro euro di affitto annuo rivalutabile poi chiaramente nel corso degli anni per una durata minima di cinque anni e poi c'erano sì tutte le spese relative al mantenimento dei di tutte le maestranze che sarebbero intervenute alla realizzazione del del ponte e poi ovviamente di tutte le opere a corredo che sono poi la strada di collegamento e quant'altro un milione e trecento ci sembra un po' eccessivo sembra un po' una valutazione fatta un po' a rialzo per dire non lo facciamo però ci fidiamo delle cifre in soltanto comunque non sono contento della della risposta grazie comunque grazie consigliere Brile passiamo alla terza interrogazione avente per oggetto strutture scolastiche ne da lettura prego consigliere considerata la recente apertura del nuovo anno scolastico considerato che la precedente amministrazione ha investito ingenti risorse economiche per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche considerato che alcuni dei lavori precedentemente indicati dovevano essere ancora ultimati e altri ancora erano in fase di progettazione necessitavano continuità per lo per il loro definitivo compimento i consiglieri comunali del gruppo obiettivo alpignano andrea oliva e sandro albrile interrogano il sindaco e l'assessore delegato uno per conoscere se l'apertura dell'anno scolastico è venuta senza problematiche di alcun genere relative all'esecuzione dei lavori due per conoscere se i lavori sono stati portati a termine secondo i progetti e gli affidamenti tre per conoscere quali attività di indirizzo politico siano state messe in atto dal sindaco e dalla giunta per poter trovare le risorse necessarie per continuare i lavori di messa in sicurezza avviati dalla precedente amministrazione grazie consigliere oliva allora il punto uno il punto due risponde l'assessore barbiane e al punto tre risponde il sindaco palmiere prego sessore barbiane sì mi viene a dire partendo al fondo come il consigliere oliva che non sono d'accordo almeno così è facile facciamo felice direttamente il segretario faccio una una premessa parliamo di politica e le prime due sono prettamente tecniche non sono politiche quindi la prima oltretutto per conoscere se l'apertura dell'anno scolastica è venuta senza problematiche del genere relativa all'esecuzione dei lavori c'è un'interpretazione quindi l'esecuzione dei lavori aveva un problema sull'apertura della scuola la scuola ha avuto dei problemi perché c'erano dei dei lavori molto probabilmente la domanda penso fosse la scuola riaperto in totale sicurezza c'erano dei lavori ancora c'erano dei cantieri ho anche interpellato il tecnico perché puramente tecnica che ha risposto non ci sono stati problemi per l'apertura delle scuole domanda tecnica per conoscere se i lavori sono stati portati a termine secondo i progetti e gli affidamenti l'architetto melano risponde i lavori sono stati portati a termine secondo i progetti gli affidamenti sono domande tecniche la parte politica la lascio al sindaco grazie assessore la parola al sindaco allora innanzitutto parto col constatare ricordare che all'interno delle interrogazioni spesso si parla di precedente amministrazione in maniera oggettiva parlando di atti e in maniera soggettiva parlando di quella che è l'interpretazione che si può dare a quegli atti vorrei solo ricordare che il ruolo di sindaco è quello di essere sostenuto da forze politiche quelle forze politiche a tutti gli effetti vanno a comporre un'amministrazione comunale e in precedenza quella che era la precedente amministrazione mi verrebbe poi da fare anche una una battuta in tal senso perché anche il commissario prefettizio era amministrazione quindi bisogna specificare a quale amministrazione precedente si facesse riferimento quella che era presieduta e rappresentata in quel momento dall'ex sindaco oliva era governata dalle forze politiche di alpignano sicura siamo alpignano e poiché questo progetto che oggi mi sostiene di cui oggi sono il rappresentante a tutti gli effetti ha sempre ribadito la sua forza di volontà che le cose ben fatte non sarebbero stralciate solo perché prima erano state portate avanti da qualcun altro è giusto ricordare che una parte di quel progetto oggi che governa la città continua ad essere sostenuta da quella parte di amministrazione alpignano sicura e siamo alpignano cosa diversa e questi sono poi la parte degli atti è quello che invece è successo al sindaco precedente ovvero che ha perso la fiducia di quei consiglieri quindi di quella amministrazione comunale tendo a ribadirlo perché spesso e volentieri queste interrogazioni scritte in questa maniera danno risalto o vogliono dare risalto soprattutto a quella che è la figura del sindaco ed è un peccato perché si va a impoverire proprio quello che è il discorso politico perché è giusto quello che dice il consigliere oliva noi siamo qui per fare politica non per metterci in vetrina singolarmente allora mi sono sentito di dover partire da questa precisazione perché tanti di quegli atti messi in piedi da quella che era l'amministrazione precedente sono all'interno esattamente della stessa visione politica di oggi la città un continuo su quelle che sono le cose positive e belle fatte in tal senso l'indirizzo politico è lo stesso quindi ci si muove su quella che è la sicurezza delle scuole prioritaria per i nostri studenti prioritaria per coloro che ci lavorano all'interno tutto il corpo dal corpo docenti al corpo ATA in sinergia con quello che è la direzione dell'istituto comprensivo e quindi la dottoressa Andretta e ci si sta muovendo su diverse linee a partire dal mese di ottobre ahimè mi spiace essere ridondante ma quello è stato l'inizio tra ottobre e dicembre oltre a quello che è stata la parte di presentazione eh nel piano strategico metropolitano già di tutta una serie di indirizzi benché il comune non sia interessato da quelle che sono le opere funzionali sotto la gestione di città metropolitana che per quanto riguarda le scuole parte dai licei in su e non avendo noi licei il lavoro propedeutico di studio su quello che erano i plessi scolastici ha portato poi invece nel mese di aprile quindi un lavoro costante a presentare e questo è atto politico un numero pari a 25 progetti 25 schede per un totale pari a 122 milioni 795 372,34 euro i progetti che interessano la città tra questi nelle schede presentate ed è sotto il capitolo del PNRR ce n'è 10 milioni all'interno di un progetto che si chiama Safety Schools e la scheda numero 16 presentata dall'ente per un valore pari a 10 milioni all'interno di quella scheda si è presa in considerazione sia la parte di efficientamento energetico sia la parte di migliorie strutturali e quindi ancora anche la messa norma dal punto di vista antisismico e sia quella che è ancora sfortunatamente una partita aperta legata a quella che è la chiusura di alcuni certificati di prevenzione incendio che giustamente l'amministrazione comunale precedente aveva deciso subito di mettere a posto perché non è possibile pensare che determinate situazioni risultano essere aperte dal 1982 data di entrata in vigore della normativa antincendio di tutta una serie di tipologie di attività e all'orlo del perdonate e all'anno 2017 invece le scuole i plessi scolastici alpignanesi non erano in ordine da quel punto di vista chiudo dicendo che a maggio il 20 di maggio come atto di indirizzo politico e c'è un verbale di delibera di giunta c'è stata la presentazione dell'istanza di contributo per interventi relative a opere pubbliche di messa in sicurezza ristrutturazione riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica riqualificazione dell'asilo nido don minzoni con il codice cup eccetera 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 questo è un bando che si è aperto a cui abbiamo partecipato come ente quindi va avanti comunque nonostante la presentazione delle schede del pnrr anche alla presentazione dei vari bandi propedeutici che a seconda che sia il ministero piuttosto che non l'ente di riferimento vengono presentati costantemente puntualmente proprio nel disperato in questo caso tentativo di trovare risorse esterne oggi non presenti all'interno del bilancio se non ovviamente per garantire quelle che sono le manutenzioni ordinarie o alcune manutenzioni straordinarie che capitano all'interno dei nostri edifici scolastici grazie grazie sindaco la parola al consigliere oliva allora eh bisognerebbe che noi tutti i consiglieri l'ho già detto avevo fatto una battuta alla dottoressa Gavaini regali ai consiglieri con soldi del comune il testo unico degli enti locali caro sindaco il programma l'hai presentato tu il programma è del sindaco il testo unico dice che il programma di mandato è scritto dal sindaco ed è del sindaco che poi è sostenuto da forze politiche ma il programma di mandato è del sindaco il rendiconto di fine mandato non sono eh obiettivo alpignano e siamo alpignano camuffati da altre liste non lo faranno loro lo farà il sindaco quindi il programma è del sindaco io da sindaco ed è per questo che stavo un po' sull'anima ero molto attivo nel portare avanti quello che era il programma del sindaco inizialmente pensavo sostenuto da forze politiche quindi quello che avete scritto che hai scritto sul programma di mandato l'hai scritto tu e l'hai presentato tu come avevo fatto io all'epoca e quindi quello che si fa durante un'amministrazione certo non è tutto il sindaco che fa ma è l'amministrazione del sindaco questo è quanto recita il testo unico degli enti locali eh io non ho necessità di mettermi in evidenza perché quello che ho fatto in passato da consigliere e da sindaco mi è già bastato non è mia necessità mettermi in evidenza e mia necessità risolvere problemi come necessità di tutti noi e rispondo al consigliere all'assessore Barbiani che le problematiche che io ho chiesto potenziali legate all'esecuzione lavori e di conseguenza all'apertura dell'anno scolastico forse scritta in modo criptico la prossima volta mi farò sostenere da uno spin doctor anche se farsi sostenere gli spin doctor in questo periodo non è molto consigliabile la farò scrivere meglio ma il ruolo del consigliere è anche quella di verificare se ci sono problematiche non basta che noi consiglieri diciamo come ha detto il sindaco Palmieri prima eh l'atto di indirizzo politico è quello di mettere centoventi milioni eh su progetti nostro compito è anche quello di verificare se quanto noi mettiamo in gioco poi venga a regolare se ci sono problemi possono intervenire devono intervenire anche i consiglieri e concludo eh la risposta politica nostra domanda è arrivata nell'ultimo eh paragrafo è arrivata nell'ultimo eh paragrafo è arrivata nell'ultima parte che lui ha detto lo rileggo per conoscere quale attività di indirizzo politico siano state messe in atto dal sindaco e dalla giunta per poter trovare le risorse necessarie per continuare i lavori di messa in sicurezza a me dei centoventi milioni di tutto quello che Alpignano necessita in questa domanda qui non mi interessa mi interessa avete dato un indirizzo politico per poter trovare risorse non mi interessa neanche sapere quale